Ciao a tutti amici di Acora Magazine, in questa video recensione vi presentiamo la clear cover della Puro che è una custodia per Nokia 1520, andiamo a vedere all'interno questa custodia. La custodia della Puro per Nokia 1520 è semirigida e come vedete la particolarità è che ha un fondo trasparente, quindi andiamo a vedere l'inserimento del Nokia, non c'è una preferenza per quanto riguarda l'inserimento naturalmente o il lato inferiore o superiore e poi basterà premere dolcemente e potremo inserire il nostro Nokia. Quello che risalta naturalmente è questa parte trasparente per risaltare il colore, vedete per quanto riguarda tutti gli ingressi, la camera, il flash, l'audio, il jack e quant'altro e vedete anche per quanto riguarda la ricarica sono ben accessibili anche la cassa posteriore. Naturalmente per quanto riguarda i comandi di fianco, vedete sono riportati in riflesso quelli che sono i comandi del tasto volume e dell'accensione e quindi sono ben accessibili. Come vedete, davvero una bella custodia anche perché in giro se ne trovano davvero poche. Bene, è un'ottima soluzione questa della Puro per proteggere il Nokia Lumia 1520, soprattutto agli angoli, vedete se lo sbattiamo un po' abbiamo questa protezione che ci aiuta a non rovinarlo. E sicuramente in giro non se ne vedono così tante di custodia ma la Puro ha naturalmente sempre una soluzione anche per questo modello, vedete è davvero molto carino perché risalta il colore del telefono. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!